Musica E allora ragazzi, ciao a tutti le ricche e bentornati qua su Minecraft Real Pack Allora, come eravamo rimasti che mi stavano a disintegrare casa, vi ricordate? Infatti abbiamo avuto anche la fortuna che quel robo là che mi ha spaccato quasi tutto Per fortuna non mi ha beccato il pollaio, altrimenti mi scappavano le galline E vabbè, comunque... Oh, guarda chi ci sta in casa mia, la guardia, disgraziato, cosa ci fai in casa mia? Sei pericoloso tu Che vuoi? Ok, vorremmo scusarci per i danni causati a casa tua, ma dai Vorremmo quindi risarcirti con 50 monete d'oro Boh, almeno, almeno sono buone ste guardie Ok Bene, ecco le monete, rimango un po' qui a casa tua come protezione gratuita Questa protezione che dà lui ragazzi, ma proprio... Tranquillo, non attaccherò nessun mostro che sia fuori casa tua C'è conto però, ah, io ci conto Ok Oh, risarcimento danni causati, scusate mi ha chiesto il naso, che ve devo dire? A me il pruito mi viene quanto registro Bene, ecco le 50 monete di risarcimento Oh yeah, oh yeah Ok Ok, abbiamo le monete di risarcimento E dunque ragazzi, vediamo un po' Qui abbiamo un bel po' di ferro appena cucinato Se qualcuno ha fame e ha voglia di ferro glielo do Oh, allora qui abbiamo il cactus E fuori teoricamente Oddio raga, c'ho paura Ai Ai Poi dicono che c'ho paura del cactus Dai, ma vi ho preso in giro, dai Ma quando mai? Ma che se ne frega Non c'ho mica paura di... 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 Di pungermi un po' Se ne frega Andiamo Oh, hai visto? Sono sano come un pesce Alla Ci metto... Dai, con i piedi di sopra Che c'è i stivali di ferro Come fai a pungerti con i stivali di ferro? Ma quando mai? Va bene Mi mangio un melone Gnam, 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 gnam Ok Raccogliamo il melone Che è un peccato Lasciarlo in giro Oh, yes Oh, yes Chiudiamo Allora, guardi Mi raccomando Non fare il cattivo Dunque Il cactus Il cactus Lo mettiamo a cucinare Dunque A proposito di cactus Come al solito C'è un casino Nell'inventario Mettiamo un po' Questo a cucinare Perché del vetro Probabilmente Mi potrà servire Perché non ne ho più Allora, vediamo un po' Come stiamo combinati Oh Wooden Cobblestone La pompa Giusto Dobbiamo andare per l'appunto A recimolare Dobbiamo andare a recimolare Un po' di Dobbiamo andare a recimolare Un po' di coso Laga Non mi ricordo neanche più cosa Sì, il petrolio Dobbiamo andare a Recimolare un po' di petrolio Perché poi ci servirà Più avanti Il petrolio Per il funzionamento Dei macchinari Quindi togliamo un po' La roba magari Di troppo Tipo 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 C'ho altro ferro Questo mi servirà Ok Allora Vediamo un po' Devo Devo combinar Allora Mi serve Il vetro Mi serve Altri due Redstone Engine Allora Altri due di questi Male Collo Raga Aia Ho dormito male Male Collo Allora I bastoncini Della Findus Mi servono Ecco Un due Tre Quattro Un due Tre Quattro Quattro E abbiamo Questi Il pistone Si faceva Mi pare Con un po' Di redstone Facciamo così Un po' La prendo Allora Non mi ricordo Di preciso Se si faceva Così Il pistone Mo' Vediamo Al contrario Si Quindi Ne dobbiamo Fare due Un altro Di questo Un altro Pezzo di ferro E abbiamo Due pistoni Poi Due pistoni Un po' Di vetro Ok Mi serve Il vetro Eccolo qua Oh Molto Semplice Allora Uno Due Uno Due Due Ok Il vetro Due Ok Questi I pistoni E abbiamo Altri due Motori Allora Vediamo un po' Che cosa Abbiamo con noi Quindi abbiamo Due motori Quattro motori Due taniche Questi Teoricamente Di questi Me ne potrebbero Servire anche Ben di più Taniche Me ne servirebbero Ben di più Qua ci dovrebbe Essere altro Ah Abbiamo finito Il carbone Dovrebbe essercene Da qualche parte Ci dovrebbe Eh No Questo è rubber Ci dovrebbe essere Da qualche parte Un po' Di carbone No Ci abbiamo Anche l'ossidiana Mi ha finito Il carbone No Aspetta 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 Qua Qua Non c'è Qua Non c'è Neanche Mi ha finito Il carbone Guardi C'è il carbone Con te No Dicete No Oh Qua c'è del carbone Vai A posto Continuiamo a cucinare Il vetro Ok Qua abbiamo questo Lo convertiamo Mi serve Dunque Dove ho messo Ah L'ho posato Da qualche parte Ok Un po' Di questo 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 Mi serve Una leva Due leve Ok Vediamo un po' Wooden transport pipe Lo convertiamo pure Questo Ok E Poi mi serve Potrebbe servire Un po' Un po' di Iron Vediamo un po' Dunque Come si fa Così Due Iron Transport pipe Ah Beh certo Ok Questi li posiamo Allora Mettiamoli Belli in ordine Iron Transport pipe Cobblestone Transport pipe Ok Invece noi Con noi abbiamo Iron fluid Iron fluid E questi qua Ci vorrebbe un altro po' Di Di tank Allora I tank Si facevano così Ok Altri due Ancora uno Lo facciamo Dai Facciamo altri Tre tank Un altro tank Eccolo Allora Ordiniamo il tutto Per benino Questi qua Li mettiamo qua Va bene Allora abbiamo Quattro motori Mi servirebbero Ora I motori No Mi servirebbero Ancora altri Redstone Engine Altri Redstone Engine Servono Parecchi Redstone Engine Si Beh Qualche altro Redstone Engine Serve Legna 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 Andiamo a prendere Un po' di legna Andiamo a prendere Vabbè Faccio prima a piedi Andiamo Più veloce Della luce Più veloce E basta Oh Wow 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 Oh yes Un po' di legna Ah poi è vero Qualcuno mi ha detto Eh Nick Di cadono addosso Gli alberelli E non li pianti Avete ragione Me lo dimentico Devo piantare un po' di Alberelli Davanti casa Ora Ora se mi cadono un po' di alberelli Li piantiamo davanti casa Ok forse Ecco Tre alberelli Prendiamo un altro po' di legna Ok Dai Dai che cade Ci siamo Pure i funghi Ok sta già a fa buio Torniamo subito in casa Perché se no Vanno a spawnare i mostri E poi Me li ritrovo fuori casa E se E poi è un casino Poi è un bel casino Invece non lasciamoli spawnare Ok Comunque Che diceva la guardia Che c'erano i banditi in giro Quindi bisogna anche stare un po' attenti Ok Che è? Ah la gallina che caga le uova Dunque Vediamo un po' Beviamo Eh mangiamoci sopra E beviamoci sopra Ah già Devo piantare gli alberelli Facciamo una bella cosa Riempiamo pure le bottiglie Allora Le bottiglie Va bene Prendiamo qualche bottiglietta Ce la portiamo con noi Andiamo a piantare gli alberelli qua fuori Beh li posso piantare qua da qualche parte Quasi quasi li pianto qua Ok Prendiamo un po' gli alberelli in giro Cresceranno prima o poi Diventeranno grandi e forti A posto E tre alberelli ce li abbiamo Qua ci devo fare una stradina assolutamente Dunque dove eravamo rimasti Allora Dovevo fare altri Facciamo altri due Altri due redstone engine Ma che è Allora Facciamo altri due redstone engine Eh no Ah si Allora altri due redstone engine Li facciamo Quindi E' un po' un processo lungo raga Ma Se fa Se fa così Dunque così 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 Cobblestone Il vetro ce l'ho Ho già usato tutto Allora così 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 Uno due Uno due Uno due Altri due motori Ok Poi mi serve Allora Due combustion Si Serviranno due engine Gli altri engine Servono questi engine Allora Iron gear Ok E Due pistoni Un'altra volta E due iron gear Allora I pistoni Si fanno Come prima Allora Facciamo altri pistoni Facciamo altri Sì Ma se faceva così E' un processo Bello lungo Raga Ma Ma va fatto Ehm Poi No ma che sto facendo I pistoni li ho già fatti No Non li ho già fatti I pistoni Mi sto incasinando Eh si Quando uno deve fare tante cose Poi Allora devo rifare i pistoni Però forse era giusto Era così 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 Ok Due pistoni Poi Questo no Questo Giusto I pistoni Ok Devo fare Ma i pistoni c'è li ho Che sto a fare Ah Giusto Ok No 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 Ancora è presto Ancora è presto Devo prima fare Yaron Yaron Gear Ok 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 Ora si Va bene Due Ok Pistone Ok Legna Ho detto una cagata Oh cacchio Buttato Ah Iron Giusto Oh Eccoli qua Combustion engine Ok Ma direi che Forse forse Abbiamo già tutto Penso che abbiamo Già tutto Ok Dovremmo avere All'incirca Tutto Ci portiamo Con noi Un altro po' Di questo No ma che sto a dire Ancora manca una cosa Manca la raffineria Oddio Diamond gear Gold Diamond Quattro diamanti E tre tank Quattro diamanti E tre tank Ok 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 Allora va bene Si può fare Diamanti Ok Questo c'è C'ho solo tre diamanti Oh questi li posso vendere Al mercato Posso comprare un diamante Ok facciamo allora Facciamo un altro Ok facciamo uno di quelli Di quelle ruote Così Così Poi Ferro Oro Ok Allora Facciamo uno di questi Ok E ci portiamo il letto Allora passiamo un attimino Dal mercato Passiamo dal mercato Compro un diamante Faccio la raffineria E si parte direttamente Per andare a montare Andiamo a montare Insomma la raffineria Di petrolio Andiamo a costruire direttamente La raffineria Del petrolio Compriamo anche un po' di vetro Compriamo delle ali nuove Ok Andiamo direttamente A fare la raffinazione Del petrolio Facciamo una cosa bella Diretta diretta Speriamo che non cadiamo Da qua sopra Perché sennò Sennò quei mostri Dalla lava Mi fanno fuori Intanto vediamo Che loro sono belli Che sotto attacco La torre Gli sta da giù Eh Stanno messi male Avranno bisogno Di un aiuto Mi sa Vabbè Noi Invece ci dirigiamo Verso il mercato Compriamo delle ali nuove Ok Scendiamo giù Allora Buongiorno Compro Vendo Lui compra Quindi Vendiamo tutta sta roba Oh yes Ok Abbiamo 48 crediti O chiamamoli come vi pare Allora Devo comprare Un diamante Un diamante Eccolo qua Un diamante per sempre Diciamo Devo comprare delle ali E Mi pare che bene o male Ci stiamo già Ci siamo Ok Quindi poi Ah il vetro Il vetro Il vetro 64 di vetro Ok Poi Allora Spostiamo I soldi Che non mi servono più Questo non mi serve Per ora Le leve va bene così Per ora Il vetro Mettiamo qua Questo mi servirà dopo Ok Questo per ora Non mi serve Vabbè andiamo qua Allora Vediamo un po' Sta già a fa notte Quasi Sta a fa notte Dove Dove dormo Guardia dove dormo Dove posso dormire Conviene aspettare Penso che convenga aspettare No ma ancora c'è tempo Direi che è meglio partire Andiamo direttamente là Dobbiamo andare direttamente lì Dove c'è scritto Petrolio Andiamo direttamente Dove c'è scritto Petrolio E E E E Andiamo a costruire La nostra base Petrolifera Non avete mai visto Avete mai visto insomma una base Petrolifera Dai che fa notte Uh là c'è qualcosa Però Non ci vado adesso No no è pericoloso Sta a fa notte Ci dobbiamo sbrigare Ci passeremo un'altra volta Mi sembra che c'è un po' di oro Ma Ci passiamo un'altra volta Prima Andiamo a A costruire Anzi quasi quasi Beh qua c'è casa Beh qua c'è casa Quasi quasi Dormiamo nella vecchia casa Qui c'è la vecchia casa Dormiamo nella vecchia casa E poi ci dirigiamo Ci dirigeremo Verso il Verso dove c'è il petrolio E partiremo con l'estrazione Del petrolio E la raffinazione Ovviamente del petrolio Allora Il letto alla mano Anzi Ok la porta è già aperta Chiaramente qua c'è ancora Parecchia roba Si parecchia roba La prenderemo più avanti Adesso Non abbiamo abbastanza spazio Dormiamo E via Non ci pensiamo più Ok ancora no Quasi Ci siamo quasi Il sole sta per tramontare Aspettiamo un attimo Dai clic 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 Finché non possiamo dormire Ok Oh yes Va bene Ok Vediamo il cilletto Andiamo verso il petrolio Oh yes Oh yes Oh qua è dove c'è stato il primo mostro Che mi ha attaccato E mi ha fatto cacassotto C'è anche la redstone Ma per me può restare là E non la prendo C'è anche un po' di ferro Mi pare Andiamo andiamo Troppo pericoloso Troppo pericoloso Quindi insomma Adesso facciamo una base petrolifera Vedete che là c'è il petrolio Però ovviamente il petrolio poi O la benzina che sia Non è facile da trasportare Perché appunto è lontana Non c'è un teletrasporto dei liquidi A meno che non metto un ender chest Ma ovviamente quella va creata Vabbè comunque A parte ciò Vediamo un po' Cominciamo a costruire Cominciamo a costruire la base Oddio che è quella cosa Ci stanno i squali qua Sbrighiamoci Ok Abbiamo la nostra struttura Questo è il centro Ok cominciamo A costruire la nostra struttura Sopra il petrolio Per estrarlo Creiamo anche la base Per la raffinazione Tutto il resto Ok Magari la allarghiamo Anche di qua Gli diamo una allargatina Ok Benissimo Dunque Cominciamo con il lavoro Allora Piazziamo il letto Da qualche parte Mettiamolo qua Ok così In caso fa notte Già posso dormire Mi serve questo E lo mettiamo Lo andiamo a mettere Lo mettiamo qua Dovrebbe andare bene Allora Questo Questo Dite boh Spendere 4 diamanti Ne vale la pena Ne dovrebbe valere la pena Allora dunque Vediamo un po' Ecco avevo anche Allora me ne servono 3 di questi Ok Ah mi serve anche Redstone Cosola Dove Dovrei avere la redstone Con me Eccola qua Meno male Allora devo fare Due redstone torch Ok Quindi mi pare Che era fatto Così Poi I tank E Non mi ricordo Ah eccola qua Raffineria Perfetto Ok Poi abbiamo Bisogno Di Tutta sta roba